È stato firmato un accordo tra Università di Camerino, Symbiotech SRL e Coscare SRL, uno dei principali operatori privati nel mercato italiano della gestione di strutture di riabilitazione funzionale e che opera con il marchio Santo Stefano. Grazie a questo accordo i partner si impegnano a collaborare per tre anni nello svolgimento di attività di ricerca e trasferimento tecnologico volte a migliorare lo stato di salute dei pazienti cui potranno essere erogati servizi personalizzati e di qualità. In particolare verranno somministrati probiotici studiati e realizzati dalla Symbiotech che saranno promossi presso le farmacie e le parafarmacie del gruppo Cos. Altro obiettivo dell'accordo è lo sviluppo da parte del settore informatico di Unicam di app personalizzate per diete, stato di salute e quindi stile di vita di ogni paziente. Un accordo a tre voci se vogliamo, un accordo a sei mani che darà sicuramente un grande impulso alla ricerca che stiamo già svolgendo grazie alle nostre scuole di bioscienze e biotecnologie, alla scuola di scienze e tecnologie perché chiaramente sono tante le competenze che possiamo mettere in campo, grazie anche alla collaborazione attiva da tanto tempo con Symbiotech che è uno spin-off che comunque nasce e si origina all'interno dell'Ateneo, sostenuto dall'Ateneo e con il quale l'Ateneo ha percorso tanta strada e ha raggiunto tanti risultati di eccellenza. Ci consente di far conoscere i nostri prodotti e comunque farli apprezzare chi già ha un'idea di utilizzo molto importante che è la COS nei propri ospedali e nei propri centri assistenziali. Per COS e vantaggi sono due, uno sull'attività clinica, i prodotti Symbiotech che ci aiutano a gestire i pazienti sia nella prevenzione di alcune malattie importanti sia nel trattamento di alcune complicazioni e di alcuni problemi che molti dei nostri pazienti hanno. Dall'altro lato c'è un vantaggio di natura più strettamente scientifica in quanto apre dei canali di ricerca non abituali per la nostra azienda che è più versata e più abitualmente dedicata alla ricerca nel campo della riabilitazione. Grazie. Grazie